Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 e poi la gelatura che dura 7-8 giorni poi minimo no 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 i tempi sono lunghi e ancora non abbiamo ottenuto questa certificazione in ogni caso la certificazione è importante il gusto del prodotto vedete la resa la resa più bello di 1 1 a 10 un litro di latte un po' di formaggio ecco bene e buonissimo le patate le patate giù c'è l'uomo l'uomo l'uomo